Qui a Baritali Hub, noi di Van de Morte le presentiamo la nuova linea Lievito Madre di Agritec, che è una nuova linea di prodotti cotti su pietra, molto naturali, che hanno anche un alto contenuto di servizio perché sono pretagliati, hanno dei tempi di cottura molto brevi, quindi sono molto semplici per il barista che vuole un prodotto di qualità ma che porti anche facilità di utilizzo perché con un prodotto pretagliato non c'è bisogno neanche di utilizzare un coltello per esempio. È una linea nuova, innovativa che abbiamo lanciato quest'anno e la presentiamo ufficialmente qui a Baritali Hub.